E io e mio marito avevamo sempre pensato nei nostri sogni futuri che Tommaso sarebbe stata la compagnia della nostra vecchiaia. La mia casa dei miei sogni sarebbe quello di montare, di fare un montaggio, di fare un piccolo studio per le mie canzoni. In realtà conoscere Fondazione ha proprio stravolto questa nostra idea. In realtà Tommaso sarà il primo dei nostri figli che esce di casa. A me piacerebbe molto che sia con dei fiori, con molti fiori. La mia casa è molto bella, dove io posso accogliere i miei amici e un cagnolino. Gli educatori di Fondazione e le persone che seguono questo progetto riescono a accogliere, secondo me in ogni ragazzo, le sue potenzialità proprio e a metterle a frutto. E questa cosa a noi come famiglia ci ha dato una grande serenità nel dire che possiamo davvero sperare che Tommaso abbia un futuro anche quando noi non ci saremo più, perché questo è il senso di questa cosa. Il sentirlo e il vederlo felice, il vederli tutti e due sistemati, ci ha riempito di gioia. Praticamente lui non vede l'ora di andare a vivere con questi cinque ragazzi. L'esigenza di, fra virgolette, di provare di sistemare il futuro di tuo figlio, ce l'hai dentro, è una cosa che hai dentro. Quando poi passa il tempo e ti accorgi che comunque, primo, non sei eterno, quindi prendi consapevolezza di questa cosa qui. Devi, non è risolvere, cioè devi, non so come dirla, devi arrivare a dire e devo mettere a posto tutti i tasselli della mia vita, prima di, e un tassello tuo figlio, scusate. Stai a casa è il nuovo progetto della Fondazione Dopo di Noi, permetterà a sei uomini fragili di andare a vivere da soli. Si può fare. Aiutaci a costruire un futuro diverso per le persone con disabilità. Vi cambia la vita, vi cambia il domani e cambia il domani dei vostri figli. Noi, non mi lasciano, non mi lasciano. Noi, non mi lasciano. Noi, non mi lasciano, non mi lasciano. Grazie per la visione!